Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale. In questo video parleremo del fiore clematis in chiave evolutiva. Quando ci troviamo in uno stato clematis negativo, la personalità tende a vivere in un futuro ipotetico e spesso irrealizzabile, che per contro rimane confinato nella mente, nel senso che non c'è un vero e proprio passaggio all'azione. Per realizzare ciò che si desidera. E spesso non c'è nemmeno l'idea che ciò che si desidera sia in realtà realizzabile. L'aspetto che più immediatamente emerge da questa situazione è una sorta di scontentezza per quella vita che si conduce e che non si riesce a cambiare e che consegna ancora di più queste persone ad un mondo di fantasia. Il fiore clematis è rappresentato dal binomio fuga dalla realtà e aderenza coerente alla realtà con anche capacità realizzative. Ho collegato spesso il fiore clematis alla ferita da rifiuto e ultimamente mi sono resa conto che anche alcuni aspetti della ferita da umiliazione possono ricollegare a questo fiore e di questo ne parlerò più avanti nel video. Il significato spirituale di questo fiore è quindi in stretto collegamento con lo scopo di vita della persona. Perché soltanto chi riesce ad essere in stato clematis positivo raggiunge il suo scopo di vita, riesce a concretizzarlo, riesce a portare il compito per il quale si è incarnato su questo pianeta e riesce a contribuire attivamente al miglioramento del mondo. È un po' l'espressione più elevata del fiore clematis. Ovviamente essendo queste persone spesso conferite da rifiuto esattamente come la maggior parte delle persone che hanno l'anima antica quindi che sono più preparate spiritualmente e che hanno un compito di aiutare l'evoluzione dell'umanità e sono persone che spesso hanno lasciato le vite precedenti con dei traumi, sono state uccise, sono state torturate hanno avuto delle problematiche spesso anche durante questa incarnazione nella gravidanza, nel parto, nell'infanzia e di conseguenza arrivano a incarnare l'aspetto evoluto del fiore clematis di solito attraverso un lavoro di ricerca interiore e di consapevolezza e soprattutto attraversano anche con successo la fase del radicamento di cui questo fiore è sicuramente un forte promotore. spesso la difficoltà iniziale è la comprensione che l'incarnazione c'è il compito di compiere l'esperienza tridimensionale e quindi che il proprio corpo è il mezzo attraverso cui noi possiamo portare le nostre esperienze in questa esistenza terrena e possiamo compiere la nostra missione qui sulla terra ma lo possiamo fare solo nel momento in cui accettiamo la nostra realtà in cui ci misuriamo con le nostre ferite in cui accettiamo tutte le nostre emozioni negative e quindi la rabbia, il dolore ed impariamo a lavorarci e a sostenerle senza paura quello che deve emergere quello che Clematis dona a chi lo assume è proprio la possibilità di entrare nella vita negli aspetti fisici della vita negli aspetti sensoriali della vita chi assume questo rimedio ha la possibilità di assaporare la vita attraverso i cinque sensi cosa che spesso le persone che arrivano in questa vita con una pesante ferita da rifiuto hanno difficoltà a portare la creatività è una caratteristica spesso molto sviluppata in questi soggetti in tutti coloro che hanno attraversato degli stati Clematis negativi fra questi troviamo tantissimi artisti infatti quando non si radica il proprio talento nel corpo la vita non può schiudersi e non possiamo regalare il nostro talento al mondo questo è un fiore molto indicato in chi sente di non essere riconosciuto e svolge un lavoro che spesso ha poco a che vedere con le proprie attitudini e peculiarità queste persone con grandi ideali e una visione allargata che sono dei veri e propri percursori dei tempi quando riescono a compiere una fusione alchemica fra il loro mondo interiore molto ricco e molto variegato e molto propositivo anche e del mondo esterno ritrovano una grandissima carica vitale e diventano consapevoli della loro connessione con tutti gli altri uomini e sono dei formidabili co-creatori della nuova realtà quando si utilizza il fiore clematis e si è all'inizio del percorso evolutivo c'è un'apertura al contatto con il proprio corpo esattamente come abbiamo visto per il fiore sclerantus il fiore clematis insieme al fiore sclerantus sono forse i due fiori che più di tutti aiutano il percorso e il processo di incarnazione e radicamento nel proprio corpo e infatti il fiore clematis ha un potente effetto radicante e questo effetto viene percepito dalla persona come un inizio della sperimentazione dei sensi attraverso il corpo può migliorare la vista il modo di percepire il contatto fisico si può persino accentuare la capacità di percepire le emozioni attraverso il sentire del corpo si scopre che il proprio veicolo fisico necessita di attenzioni e di cura e si inizia a scoprire attraverso questo fiore l'importanza della dedizione a sé diversi clienti che hanno iniziato un percorso floriterapico con me e che hanno iniziato ad assumere il fiore clematis e di questo ho già accennato in altri video mi hanno riferito di aver notato dei cambiamenti persone che si muovevano poco hanno scoperto il piacere di compiere dell'attività fisica e di sentire che il corpo ne beneficiava altre persone mi hanno riferito di avere completamente cambiato la loro alimentazione di porre attenzione da quando assumono questo fiore a quello che mangiano e anche al modo in cui cucinano di aver ritrovato la passione per la cucina e di aver ritrovato la passione per il buon gusto il piacere di gustarsi un pasto e di assaporarlo quindi di sentire il sapore mentre prima mangiavano con molta più non curanza sia per gli aspetti diciamo così del proprio fabbisogno alimentare e non stavano neanche molto attenti alla salute cioè alla qualità dei cibi che portavano in tavola e con questo fiore invece hanno iniziato a porre un'attenzione particolare alla qualità del cibo che portavano in tavola e alla preparazione dei pasti traendo anche piacere proprio dall'arte di cucinare e hanno visto anche una migliore convivialità persone che prima preferivano mangiare da soli si ritrovano molto più spesso con amici e conoscenti per consumare i pasti e per instaurare anche una comunicazione e comunque c'è un aumento dell'attenzione per il proprio corpo e per tutto ciò con cui il proprio corpo entra in contatto quindi una migliore cura del corpo per esempio godersi un bagno caldo godersi una crema profumata spalmata sul corpo e anche migliorare le qualità energetiche dell'ambiente in cui vivono c'è gente che mi ha detto di avere portato dei cambiamenti significativi alla loro casa chi si è occupato del giardino ed era una questione che magari rimandava da molto tempo quindi il concetto del nutrimento inteso come nutrimento energetico e nutrimento d'amore perché tutto ciò che curiamo con amore ci restituisce il nostro amore ci nutre e quindi mettere amore nel cibo che noi mangiamo nell'ambiente che noi viviamo ci dona poi quell'amore che ci consente di nutrirci di autonutrirci questo è il primo effetto del fiore clematis e questo effetto si esplica nella misura in cui la persona riesce a radicarsi nel proprio corpo quando si hanno questi risultati vuol dire che l'irradicamento è iniziato ed è stato portato avanti al di là del fatto che si stiano o meno facendo degli esercizi di bioenergetica per il radicamento appunto e qui volevo parlarvi di un aspetto importante molte volte le persone che non hanno un buon radicamento avvertono il mondo come ostile e non capiscono che la ragione per cui avvertono il mondo come ostile la prima ragione è che loro non ne fanno parte e che c'è una certa difficoltà anche per le altre persone a rapportarsi con loro oltretutto poiché la ferita da rifiuto che si incarna in questo pianeta spesso sviluppa anche la ferita da ingiustizia sono persone che giudicano molto gli altri nella misura in cui non sono consapevoli del loro stato di sradicamento li giudicano perché percependo questo mondo ostile pensano di essere nel luogo sbagliato nella situazione lavorativa sbagliata di avere delle amicizie sbagliate o di vivere una sorta di solitudine come condanna perché è sbagliato il mondo quando iniziano ad assumere questo fiore che contribuisce assieme ad altri fiori che potrebbero essere water violet che potrebbero essere sclerantus che contribuisce a farli uscire da questa condizione di isolamento a cui sono stati portati dall'indifferenza verso il presente quindi verso il mondo esterno tipico del fiore clematis in stato negativo assistono al modificarsi dei loro rapporti con il mondo e vi assicuro ci sono state persone che vivevano in un ambiente lavorativo che anche io quando me lo sono sentito descrivere inevitabilmente avrei giudicato come tossico come poco accogliente come negativo e queste persone nella misura in cui si sono radicate hanno iniziato a sviluppare dei rapporti virtuosi sia con i loro responsabili che con i colleghi e c'è stata questa sensazione di essere nel luogo non adatto perché tutto questo si è trasformato in un'esperienza di confronto con le persone vicine e questo può trasformare positivamente le relazioni se si diventa capaci di gestire un confronto anche con le persone che la pensano nella maniera opposta alla nostra è possibile farsi conoscere innanzitutto e far apprezzare le proprie qualità perché al di là del nostro pensiero noi possiamo portare nel lavoro in cui dobbiamo collaborare con gli altri le nostre qualità e queste qualità possono essere viste e apprezzate anche dai colleghi che non la pensano come noi sui massimi sistemi di vita poiché dobbiamo sempre ricordarci che spesso i luoghi di lavoro soprattutto quando non siamo nello stato climatic positivo quindi quando non stiamo lavorando al nostro scopo di vita la nostra missione di vita spesso sono dei parcheggi che ci servono per soddisfare le nostre esigenze di sopravvivenza quindi nutrirci avere un tetto sopra la testa e sopravvivere sono dei parcheggi nei quali noi resteremo sino a quando non capiremo come portare le nostre qualità nel mondo ma questo non vuol dire che in quegli ambienti noi dobbiamo necessariamente essere ostili con tutti anzi iniziare a fare l'esperienza di collaborare in questi ambienti può essere molto utile proprio per sviluppare le nostre qualità che ci serviranno nel momento in cui entreremo nel profondo inizieremo a operare per portare il nostro scopo di vita una mia cliente ha migliorato tantissimo i rapporti nell'ambiente di lavoro sino a farsi riconoscere le sue qualità così tanto dal finire con l'essersi ritagliata un ruolo privilegiato legato proprio a queste sue qualità mi hanno riservato una saletta in cui io posso svolgere il mio lavoro che non è esattamente quello per cui all'inizio ero stata assunta ma che io ho dimostrato di saper fare e che mi hanno adesso affidato e pensare che all'inizio non avevo dei grandi rapporti con i colleghi anzi mi dicevano spesso tu non ascolti e conoscendo l'aspetto clematis nella sua parte negativa posso affermare che probabilmente fosse vero questo feedback che le hanno rimandato i colleghi e assumendo il fiore invece ha iniziato a rapportarsi con gli altri e quindi anche ad ascoltarli e questo è stato apprezzato e riconosciuto dai colleghi clematis in chiave evolutiva ci dice che dobbiamo diventare la persona capace di incarnare il nostro scopo di vita e che per farlo dobbiamo attraversare un periodo di ricerca interiore di scelte di radicamento e soprattutto dobbiamo individuare questo nostro scopo di vita e riconoscere il nostro corpo uno strumento importantissimo l'unico che abbiamo per poterlo portare per poterlo radicare nel mondo questo scopo di vita e non dobbiamo tralasciare l'importanza delle relazioni con gli altri perché qualsiasi sia il nostro scopo di vita sicuramente coinfluirà in un progetto più grande per cui in questo video vi volevo parlare anche di due differenti livelli di utilizzo del fiore clematis il primo nelle persone che ancora non hanno iniziato un lavoro su di sé e che ha proprio come obiettivo come scopo quello di portare queste persone nella tridimensionalità nell'esperienza della vita attraverso il corpo agita attraverso il corpo nel poter apprezzare i piaceri di questa vita esperita attraverso il proprio corpo il fiore clematis può essere fondamentale nel momento in cui queste persone continuando il lavoro di ricerca si rendono conto di avere una missione e decidono che la devono portare in questo mondo ecco lì il fiore clematis ha nuovamente una grande importanza io ho visto persone seguite da me per un percorso di floriterapia partire con una ferita da rifiuto risolvere gli aspetti fondamentali di questa ferita sia attraverso il lavoro con i fiori che attraverso un percorso di counseling quindi dopo un periodo di sei mesi ritrovarsi in una situazione in cui è emersa nuovamente la positività del fiore clematis con i test radiestesici che io faccio per i fiori io le prime volte mi chiedevo ma come mai poi ho capito che c'era una sorta di fuga di queste persone per cui si riattivava la ferita da rifiuto o meglio si attivava la ferita da umiliazione innestata su quella da rifiuto per cui le persone avevano un grande entusiasmo di portare il loro scopo di vita ma nel momento in cui erano vicini a questo sperimentavano la paura tipica della ferita da rifiuto e ritraevano tutta la loro energia e questo è un aspetto più tipicamente tipicamente da ferita dell'umiliazione e comunque io in alcuni video ho spiegato che queste ferite spesso si innestano l'una sull'altra e in quel momento tornava positivo il fiore clematis per cui il fiore clematis è fondamentale nella spinta finale perché queste persone non devono più radicarsi nel corpo ma devono radicare nel mondo la propria missione di vita e in questa fase il fiore clematis può costituire un aiuto molto importante tornando al fiore clematis se noi lo osserviamo se osserviamo proprio il fiore è un fiore che ha una fragranza molto intensa e si avvicina al compito spirituale all'essenza spirituale di chi ha questo fiore come fiore tipologico perché devono fare questo i clematis devono spandere la loro fragranza nel mondo i loro pensieri delicati la loro finezza d'animo le loro nobili istanze da persone spiritualmente evolute quali sono e quindi devono affermarsi come artisti come professionisti delle discipline olistiche come terapeuti come innovatori nell'ambito tecnologico e scientifico e attraverso l'assunzione di questo fiore possono trasportare i propri progetti da un piano puramente mentale e idealistico a un piano di realtà contribuendo così all'evoluzione dell'umanità intera e con quest'ultima frase che racchiude il senso della chiave evolutiva di questo fiore concludo questo video mandandovi un grande abbraccio e dandovi appuntamento al prossimo ciao